La Toscana si adegua alle disposizioni date dal Ministro della Salute Roberto Speranza per il coronavirus. Il Presidente della Regione Enrico Rossi, con l'Assessore alla Salute Stefania Saccardi, ha firmato un'ordinanza regionale che prevede la quarantena con sorveglianza attiva per chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus e la permanenza fiduciaria in casa con sorveglianza attiva per chi rientra in Italia entro 14 giorni trascorsi nelle zone a rischio. Con una seconda ordinanza sono stati disposti percorsi dedicati all'ingresso in pronto soccorso per i pazienti con sintomi respiratori, tosse e febbre e pulizie più frequenti soprattutto nelle sale di attesa. Applichiamo, come abbiamo sempre fatto, al meglio possibile le disposizioni delle ordinanze ministeriali e della protezione civile. L'abbiamo fatto ieri sera con l'ordinanza che già avete visto, lo abbiamo fatto riunendoci stamani approfondendo e cercando di adottare altre misure che mettano sotto tutela i servizi sanitari della regione toscana, dal pronto soccorso agli ambulatori in modo da usare anche una misura di riguardo verso la salute collettiva. La regione ha poi rivolto a tutti l'appello a limitare le visite ai degenti in ospedale per quanto possibile e gli accessi ai centri sanitari e ha messo a disposizione tre numeri telefonici, uno per ASL, riservati a coloro che rientrano dalla Cina o dalle zone a rischio. Si tratta di un numero che è prevalentemente riservato a coloro che da 14 giorni rientrati dalla Cina o da altri paesi che mano a mano l'OMS eventualmente vorrà comunicare e inserire tra i paesi a rischio, hanno l'obbligo in base all'ultima ordinanza di comunicarci la loro residenza e il loro numero di telefono in modo che noi si possa sottoporre queste persone ad una sorveglianza attiva nel loro auto isolamento perché si tratta di un isolamento volontario. In caso di insorgenza di sintomi come tosse e difficoltà a respirare, gli operatori sanitari sono incaricati di eseguire il tampone a domicilio nel luogo di isolamento e non più nell'ambulatorio aperto allo smannoro pochi giorni fa, di fatto superato dall'ordinanza regionale.